Buongiorno, bentrovati in nuova edizione del TG Noi Giorno con le notizie della mattinata, gli aggiornamenti delle ultime ore con diversi fatti avvenuti sul nostro territorio. Partiamo dalla cronaca, mandiamo su noitv.it, partiamo, vedete in apertura il rally del ciocco in diretta su noitv, ve ne parlerò tra pochissimo, ma per quanto riguarda la cronaca vorrei andare subito sulle news in primo piano e parlarvi di questo incidente sul lavoro che è avvenuto nella prima mattinata a Carrara in una ditta di marmi. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per l'uomo, un 46enne rimasto comunque ferito dopo aver riportato un trauma toracico, incidente, dicevo, alla fine uscito con un codice giallo, dunque non grave, ma inizialmente si è temuto per molto peggio, intervenuto e allertato, anche il Pegaso, l'alli soccorso alla fine non è dovuto atterrare, viste le condizioni dell'uomo che è rimasto sempre cosciente. È successo intorno alle 8.40, vi dicevo, a Carrara l'uomo portato in ospedale al NOA di Massa, sul posto non solo 118 ambulanza, ma anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. E a proposito di sicurezza sul lavoro, un'operazione dei carabinieri controlli nei cantieri in Versilia ha portato alla denuncia per violazioni penali a due imprese edili, un cantiere a Forte Le Malmi. Operai non assicurati, visite mediche non eseguite. Di queste due violazioni penali dovranno rispondere due impresari edili individuati dai carabinieri nel corso dei controlli messi in campo in queste settimane nel mondo del lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni. Un'operazione sicurezza eseguita dal comando della compagnia di Viereggio insieme al personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro di Lucca. Il caso è emerso nei giorni scorsi, durante le verifiche eseguite a Forte Le Malmi. I militari hanno riscontrato due violazioni penali da parte dei responsabili di due aziende con sede legali nel nord Italia. Gli amministratori delegati delle rispettive imprese, che operano all'interno del medesimo cantiere, sono stati denunciati a piede libero. In sostanza non hanno sottoposto i dipendenti alla visita medica, così come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria, e soprattutto non hanno provveduto ad assicurare i propri collaboratori all'interno del cantiere. Vale la pena ricordare che le sanzioni in materia di lavoro in nero, in tutte le sue sfumature, sono state inasprite di recente dal governo. Nuove regole e maxi-sanzioni entrate in vigore lo scorso 2 marzo con il decreto PNRR 2024. I controlli nei cantiere DIL in Versilia, fa sapere il comando dei carabinieri di Viereggio, verranno intensificati in vista dell'arrivo della bella stagione, sempre insieme all'ispettorato del lavoro e ai nas. Altro intervento dei carabinieri, andiamo così in Valle del Serchio, Toneo su noi tv.it per raccontarvi quanto è accaduto. Si parla, pensate, di 7 minorenni denunciati per vandalismi alle auto a Borgamozzano. I carabinieri della stazione locale, dopo settimane di indagini, sono riusciti a dare un'identità agli autori di una serie di reati che avevano messo in allarme i cittadini del comune della Mediavalle. Si era trattato di furti, di un ciclomotore, una serie di danneggiamenti avvenuti di notte, sulle auto in sosta, anche due vetture di proprietà del comune. La sorpresa principale, come vi dicevo, è stata quella degli autori che sono stati identificati, 7 giovanissimi di età compresa, pensate, fra i 14 e i 16 anni, tutti residenti a Borgamozzano. I minori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. I fatti sono avvenuti nelle settimane scorse e si arriva anche al periodo di novembre. Vi daremo poi maggiori dettagli su questa vicenda nelle prossime edizioni. E intanto ci sono pesantissime accuse per il crack di un centro sanitario privato a Viareggio, operazione della Guardia di Finanza, che adesso porta a dover rispondere tre persone, tre viareggini di bancorotta fraudolenta. È falso in bilancio. False fatture, bilanci truccati, soldi distratti per finalità extraaziendali hanno provocato il buco da oltre 2 milioni di euro che ha causato il fallimento di una nota struttura sanitaria privata di Viareggio, aperta e poi chiusa nel giro di poco più di un anno. È stata la Guardia di Finanza a indagare e scoprire le varie ragioni del crack del centro poliambulatoriale e a denunciare tre persone per bancorotta fraudolenta e altri reati. L'inchiesta è partita da accertamenti bancari, dall'esame delle documentazioni e dalle testimonianze di dipendenti e fornitori ed ha portato a smascherare il ruolo di amministratori occulti da parte di un cardiologo e di un commercialista di Viareggio. In pratica, utilizzando una società riconducibile all'amministratrice delegata del centro sanitario privato, hanno distratto nei pochissimi anni di attività circa 350 mila euro grazie a fatturazioni di comodo. Ciò ha determinato l'immediato dissesto, occultato falsificando i bilanci e le scritture contabili. Ma non solo, i tre avevano dilapidato circa un milione di euro provenienti da conferimenti e finanziamenti dei soci fondatori, spendendole in attività che niente avevano a che fare con il centro sanitario. In tutto, la Guardia di Finanza ha calcolato, tra soldi sottratti e debiti fatti, nel primo e unico anno di vita dell'azienda, un buco da 2 milioni e 300 mila euro che ha portato al fallimento del centro. Pesantissime le accuse per i tre indagati. Bancarotta, semplice, fraudolenta, distrattiva e preferenziale. E falso in bilancio, accuse di cui dovranno rispondere di fronte al GIP di Lucca. Lasciamo la cronaca, veniamo adesso alla politica perché assume anche una piega politica allo scontro che sembra sempre più acceso fra il comune di Lucca e i commercianti sul tema del suolo pubblico. C'è anche l'intervento del Partito Democratico. Facciamo il punto nel nostro servizio. Non si placano le polemiche sulla revisione delle aree per le tariffe del suolo pubblico. Il PD parla di uno spettacolo imbarazzante e attacca l'amministrazione nel merito e nel metodo. Io ho la sensazione che si vada pezzetto per pezzetto a poi a un aumento generale e non si vede qual è il piano complessivo. Venuto fuori da questa reazione dell'associazione di categoria che un aumento ulteriore trasversale di tutte le fasce era nei tavoli, in questi tavoli di concertazione dove però l'argomento è stato buttato là. Per non parlare della tariffa che poi è stata stabilita dalla Giunta per piazza dell'Anfiteatro a più più. È stato deciso probabilmente anche perché è una piazza difficile da gestire. Secondo l'amministrazione in carica la riforma delle aree e le conseguenti modifiche alle tariffe affonderebbero le radici nello studio condotto da IMT Scuola Alti Studi Lucca, una ricerca commissionata proprio da Martini quando era assessora al commercio nel precedente mandato. Quindi quello studio lì è lo studio per fare un piano. Allora io di piani non ne ho sentiti ancora parlare, secondo me invece ci sarebbe stato proprio bisogno. Però io lo studio finale non l'ho mai visto. L'ho chiesto, l'ho chiesto per vie brevi, l'ho chiesto per me anche recentemente e devo fare un accesso agli atti. Io credo che un'amministrazione trasparente è trasparente se il numero delle richieste agli atti è basso. In difesa dell'amministrazione interviene il gruppo ristoratori di Confartigianato Imprese Lucca che definisce necessario l'adeguamento e la differenzazione delle tariffe varate dall'amministrazione. Secondo Confartigianato l'aumento è un riconoscimento implicito di una maggiore importanza dell'esercizio rispetto ad altri che stanno fuori e aumenta il valore della licenza. Ed è lutto a Lucca per la scomparsa all'età di 82 anni di Raffaello Giannini della storica dinastia di farmacisti lucchesi. Raccogliendo l'eredità del nonno e del padre aveva aperto la farmacia sulla via Pesciatina a Lunata. Successivamente la famiglia aveva aperto un'altra farmacia a Capannori e Raffaello era diventato socio privato della farmacia comunale di Alto Pascio. I funerali si terranno sabato alle 15.30 nella chiesa di Sant'Alessio. Alla famiglia Giannini le condolianze anche da parte di Noi TV. E rimanendo ancora su Noi TV.it vedete in apertura, avevo fatto accenno poco fa, giornata segnata ovviamente a tutti i livelli a Lucca dal Rally del Ciocco e ricordiamo la diretta su Noi TV che seguirà come sempre passo dopo passo con ogni speciale la partenza e poi fino all'arrivo questa 47esima edizione del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio che si aprirà con il Ciarra. Oggi alle 14.50 in diretta la partenza da Lucca e poi le varie prove speciali, seguiteci per vedere immagini, interviste, commenti e classifiche, partenza da Lucca alle 14.50 sul sito, poi vedete anche tutti gli altri orari per rimanere aggiornati. Mi fermo qua al momento, rimanete però con noi, vi aspettiamo ancora con la nostra programmazione, la nostra informazione. Grazie a tutti.